Raimondo Mussolino, presidente del circolo fotografico Il Castello, sito qui a Taranto in zona Bestat. Una location che ospita le fatiche fotografiche di Luciano Mann raccolte poi nella pubblicazione Mem Papère, i giorni di Parigi. La sua associazione ha voluto dare spazio, rilievo a questa iniziativa di Luciano Manna ma soprattutto al valore, al significato che quei giorni hanno avuto per Parigi e hanno per l'intera umanità. Questa mostra che noi ospitiamo fa parte di una selezione presa dal libro ed è soltanto una delle mostre che ospiteremo durante questo primo semestre, infatti questo luogo nostro è una delle gallerie FIAF in Italia. Che cosa abbiamo voluto fare? Noi cerchiamo di valorizzare quelli che sono i nostri talenti locali per cui Luciano Manna rappresenta sicuramente un valore aggiunto per questa mostra. Questa mostra che parla di quei giorni di terrore ma anche quei giorni di speranza perché il COP21 era proprio questo, era la speranza che i nostri governanti capiscano che l'ambiente deve essere tutelato, che l'ambiente deve essere protetto. E lui partecipa e ci porta questo reportage che ha un significato molto profondo e noi lo ospitiamo veramente con piacere perché, ripeto, i nostri talenti locali devono essere assolutamente valorizzati.